Complimenti Complimenti al Milan Onestamente da interista Sono un po' preoccupato Devo ammetterlo Una squadra che entro un mese Batte sia Inter sia Napoli Fuori casa al Maradona E da scudetto Ho sentito tante volte Forse troppe volte Dagli interisti Noi quest'anno giochiamo solamente contro noi stessi Solo noi stessi ci possiamo fermare Penso che dobbiamo cambiare atteggiamento Perché questo Milan c'è Questo Milan è presente In questa lotta scudetto E soprattutto Battere sia Inter sia Napoli In questa fase di stagione Già molto avanzata Di dare una spinta motivazionale incredibile Sapete quanto è importante La testa nel calcio Ma non solo questo Ancora una volta Ho notato un grande centrocampo del Milan Che onestamente Ad inizio stagione Non me lo aspettavo Di essere così forte Contro la palla Attenzione Perché parlandoci un po' chiaro I primi minuti Io provo a fare un'analisi qui Obiettiva Cari amici I primi minuti Il Napoli secondo me Ha dominato È entrato con la giusta gamba È entrata con la giusta mentalità Volevano vincere questa partita Noi sappiamo con quanta passione Si vive il calcio Lì giù a Napoli Quanto vorrebbero vincere Questo scodetto Anche Inzigni Che lascerà in Napoli Il capitano Che andrà via Cioè lì la gente Secondo me Stava allo stadio Già a mezzogiorno Sappiamo Quanto è importante Il calcio Quanto è stata importante Questa partita per il Napoli Perciò il Napoli È iniziato bene Ma poi ho visto Ancora una volta Un Milan Veramente devastante Contro la palla Cioè nei primi minuti Il pressing Non funzionava Alla perfezione Per il Milan Ma poi Piano piano Quando questa macchina Di pressing Ha iniziato a lavorare bene Caput For by Out Il gioco del Napoli È stato finito Perciò veramente impressionante Sotto questo punto di vista Secondo me è un Milan Intelligente Qui parlo di intelligenza Calcistica Il Napoli è forte Nel giropalla C'è tanta qualità Nel giropalla Lo sappiamo tutti Non c'è neanche bisogno Da evidenzarlo Ma il Milan Ha provato Di mettere la partita Un po' sul piano fisico Primo tempo Tante interruzioni Tante discussioni Tanti duelli fisici Tanti contrasti E il Milan ha fatto bene Secondo me Perché il Milan Sotto questo punto di vista È più forte A parte Ozyman Vabbè Quello è devastante E anche Lui fisicamente è devastante Ma per il resto Secondo me il Milan Fisicamente Stasera aveva qualcosina in più Del Napoli Perciò ad un certo punto Era giusto Era la decisione giusta Di metterlo Sul piano fisico E lì non ho visto Nessuna risposta del Napoli Ho visto il Napoli Che spesso poi Cercava Ozyman Che è un pazzo Ozyman Atleticamente È veramente devastante Ozyman Un giocatore Che non ha paura Cioè anche con quella mascherina Lì Con la faccia Forse ancora Mezza rotta Così si buttano Ogni palla Si butta anche Dentro i paloni Che sembrano Irraggiungibili Perciò ogni tanto Napoli Gli ha buttato Un pallone Lì davanti E lui stava Contro tre giocatori Ma spesso Riusciva ancora A prenderla Ma non c'era supporto Non c'era supporto Da parte di Insigne Per esempio Deluso Male Insigne Stasera Silinski Male Silinski Politano Male Politano L'unico che ha dato supporto È stato Di Lorenzo Di Lorenzo Quello che tutti hanno sempre Massagrato Anche in nazionale italiana Nonostante che è diventato Campione d'Europa Che spesso viene preso in giro Grande partita Grande partita Da parte di Lorenzo Per il resto In fase offensiva Leggero questo Napoli E questo non è colpa Di Ozyman Nessuno oggi Deve criticare Ozyman Che cosa deve fare Ozyman Tutto solo Tutto isolato Distanze sbagliate Sbagliatissime Questo ragazzo Ha sputtato sangue Ha dato veramente tutto Perciò nessuna critica Verso Ozyman Un Milan Ripeto Devastante contro la palla Devastante Contro la palla Soprattutto Il centrocampo Con Lobotka Ruiz Sempre sotto pressione Hanno sempre avuto fatica A costruire qualcosa E nelle transizioni Un centrocampo Del Milan Come per esempio Ben Asser Che poi Un giocatore Avanzava Anche se Anche inserito Perciò Equilibro Forse questa è la parola giusta Per descrivere la partita Di questo Milan A centrocampo Tonali Nel primo tempo Ha fatto una grande partita Come ha chiuso le linee di passaggio Veramente Veramente Bravo Il Napoli L'altra parte È troppo lento Troppo lento Nelle transizioni Ozyman Troppo Isolato Distanze Lunghissime Tra Ozyman E gli altri riparti Perciò ripeto Deluso Da Zilinski Insigne E Politano Anche troppo lento Il Napoli Nel giro palla Parliamo un attimino Anche di Giroud Penso che sia giusto Farlo amici Anche lui Giocatore arrivato Tanti lo prendevano in giro Questo qui Diventato campione Nel mondo Senza segnare Così Un giocatore finito Io penso Che sia più importante Segnare In queste partite Come segnare I gol Quando vinci 4-5-6-0 O fai 2-3 gol Giroud Adesso Ha segnato Nel derby Contro l'Inter Ha fatto doppietta E stasera Ha segnato Da grande attaccante Stasera ha segnato Proprio da Da killer Da killer È stato impressionante Nel momento giusto Si mette dietro Koulibaly Un millisecondo Se avesse Aspettato Un millisecondo Sarebbe stato Fuigioco Questo è istinto Questo è classe Questa è esperienza Questa è soprattutto Esperienza da bomber La roba del genere Altri giocatori Non li possono fare I falso nuovi Così creano gioco Vanno delle cose Bellissime Così Ma questo era un movimento Davvero killer Davvero bomber Considerando la sua età Adesso Non può Ogni partita Fare la differenza Però Nelle partite chiavi Nei momenti chiavi Si è trovato Nel posto chiave Perciò Bravo Bravo Giroud Al Milan Mi ha anche sorpreso In maniera positiva Calulù Onestamente Ha fatto un'ottima partita Una volta Era terzino Non mi sbaglio Perciò Si è veramente Integrato bene Considerando anche L'assenza Di altri Difensori centrali Al Milan Un giocatore Poco falloso Riesce quasi sempre A risolvere tutto Senza fallo Perciò anche Da parte sua Secondo me Una buona Buona partita E per il resto Niente amici L'interista Sono un po' preoccupato Sono un po' Scioccato Perché ripeto Un Milan Che batte L'Inter Un Milan Che batte Napoli Fuori casa Maradona E un Milan Che pochi giorni fa Ha anche dominato L'Inter Fa male dirlo Non mi piace dirlo Però Adesso non posso Mettermi qui su YouTube A raccontare balle Erano più forti Era forse il primo derby Da tanto tempo Per tanti anni L'Inter Aveva dominato Secondo me Durante i derby Invece nell'ultimo Un Milan E con Krunic Anche Krunic Dopo entrato Non ha neanche giocato Ma dopo entrato C'è anche qualità Dalla panchina Krunic contro l'Inter Grande partita Marcato a uomo Prozovic Ha completamente Chiuso La nostra partita Sotto questo Punto di vista Perciò Dobbiamo essere svegli L'Inter deve essere sveglia L'Inter deve essere concentrata L'Inter Secondo me Anche noi tifosi Perfino io Ogni tanto Dicevo Beh noi siamo così forti Così dobbiamo guardare Solo su di noi Possiamo solo battere Noi stessi Come se Se nel campionato Non ci fosse Concorrenza Il Milan stasera Mi ha dato un segnale forte Poi anche il Milan C'ha le sue debolezze Anche il Milan C'ha i suoi crolli Assolutamente sì Però Basta Basta Prenderli sotto gamba Adesso Non possiamo più Per permetterci Di perdere punti Adesso veramente Ogni partita Dobbiamo giocarla Come se fosse Una finale Ogni partita Giocare come se fosse Una finale Per questo Milan Stasera Secondo me Ha preso tanta Tanta fiducia Questa è stata Un po' La mia analisi Amici Iscrivetevi al canale YouTube Tanta gente Guarda i miei video Da nascosto Con un click Vi potete iscrivere Vi costa nulla A me Potete regalare Una grande gioia Perciò grazie di cuore A tutti che lo fanno A tutti coloro che lo fanno Vi mando un forte abbraccio Sempre viva il calcio Vediamo presto